Attuare un modello economico e sociale che sappia creare valore attraverso le relazioni culturali, a sostenerlo attraverso la diffusione di una nota stampa, Rocco Cantisani, portavoce del gruppo politico Sapri Cantiere Aperto. Il movimento è stato apparentato nella passata tornata elettorale alla lista insieme per Sapri sconfitta da Sapri Democratica, guidata dall'attuale sindaco Giuseppe Del Medico. Il comunicato del sodalizio giunge all'indomani dell'insediamento del nuovo consiglio comunale e Cantisani si rivolge ai nuovi amministratori, in particolare a Giulio Cammarosano, assessore alle politiche di sviluppo e del lavoro per il comune di Sapri. L'aspetto che mi preme sottolineare e in qualche modo, scrive Cantisani nella sua nota, sollecitare ai fini di una utile discussione la scelta di un modello di sviluppo sostenibile. La strutturazione, aggiunto il portavoce del gruppo, non potrà e non dovrà essere sottratta ad una profonda analisi che coinvolga però più attori. Sarebbe miope ancorché deleterio, sostengono da Sapri Cantieri Aperto, pensare di fronteggiare la crisi socio-economica che viviamo nella nostra comunità con le stesse ricette che hanno portato in passato il paziente sull'orlo del baratro. Pertanto l'imperativo è cambiare, sostengono Cantisani e quelli del gruppo. L'esponente del movimento invita poi gli amministratori a seguire precise vie, sostenibilità ambientale, qualità delle politiche sociali, salvaguardia dei diritti e lotta decisa all'evasione e all'elusione fiscale. Dunque per Cantisani e suoi operare attraverso la cultura per generare sviluppo.